Allora, l'appuntamento per stasera con un lunedì da Fullwebber su Radio Interland e sul sito nicobenza.it Il tema, dopo quello pesantino di Wikipedia e non ciclopedia di settimana scorsa, è qualcosa di molto più leggero. Stasera parleremo di app, le applicazioni, le app per smartphone, le app per pc, le app per mac, le app. Modi semplici per fare cose, per esempio per telefonare gratuitamente, per videochiamare, per mandare messaggi, spedire file, foto, video e anche altre cose carine e simpatiche che magari non vengono in mente in prima battuta, ma che sono utilissime per migliorarsi la vita. Quindi l'appuntamento con le app è stasera a un lunedì da Fullwebber su Radio Interland o nicobenza.it dove potrete anche vedere, come sempre, il fuorionda. Ci vediamo stasera alle 22. Vi aspetto. Ciao!